Riccardo che lancia Andrea Di Maria Cristaldi è il gol Forse è nefischiato fuori gioco Adesso Nino Russo E c'è il gol, è il gol di Nino Russo Sardegna Rino 1 Ed esplode la gradissimo gol di Nino Russo Sicuramente uno dei migliori Adesso Alpio Spina che ne salta uno Prova la conclusione E gol, ancora Nino Russo 2 a 0, doppietta di Nino Russo Che viene a esultare sotto la tribuna Cita E qui Alpio Spina Non è andata Alpio Spina Alpio Spina che apre per Cristaldi Che da due passi la spedisce alta Salta un uomo e poi apre per Alpio Spina Alpio Spina che allarga per Indelicato Che entra in aria Riparte di nuovo Nino Russo Nino Russo Davanti al portiere si fa ipnotizzare E poi segnato la doppietta decisiva in questo match Tria che serve Carmeli Indelicato Carmeli Indelicato che Entra in aria Serve dietro per Salvo Vappalardo Che prova la conclusione E qui E qui c'è il gol del Santa Venerina Con Nino Russo Che raccoglie un cross Arbitro che fischia la fine del match Con la squadra che Raccoglie il saluto della curva